Partita che deciderà tanto per i destini delle due squadre, per Panarelli per fare bene in questo esordio, per Maurizzi per dimostrare che questa Artenna può giocarsela con tutti. Centrale inizia adesso la partita, va Giacomo Turchetta, anzi lascia, palla a Bollino, poi esce Giuliani, spazza Nannini, Odiano se prova andare sulla ribattuta poi tira a bassi. Favetta prova la conclusione al De La Viz, Bollino punta l'uomo, può andare alla conclusione, poi Favetta e qui De Angelis ci mette una pezza, allora tira a bassi, intercettato da Onazzi, può ripartire la casertana in contropiede. Attenzione qui a Turchetta che può andare fino in fondo, guida fino in fondo Giuliani, i riflessi di Alessio Giuliani a negare un contropiede velenoso. Poi Turchetta, attenzione a Turchetta, fino in fondo Turchetta, la mette in mezzo per Favetta. Specialista di promozioni, intanto qui guida, si gira, può andare guida fino in fondo in mezzo a due, frana di fronte a Giuliani, brividi dalle parti della Viz. Evita problemi, anzi può ripartire la casertana in contropiede, il solo tira a bassi, ultimo vertice. E allora Bolletta dalle parti di Favetta, eccolo servito il numero 94, 1-2, la conclusione Giuliani con un miracolo, dice no. E salva il risultato, si rifugia in corner la Viz. Corner battuto dalle parti di Favetta, Sirignano la palla resta lì, l'ultimo acuto forse di un giocatore, rosso-blu. Luciani, odia nose, si gira, il tiro è buono per Cerbara, che va alto sopra la traversa, primo effettivo squillo della Viz. Il Bollino, può andare Bollino, fino in fondo Bollino, Favetta, la conclusione alta. Quesimo, e inizia adesso il secondo tempo fra Vizartena e Casertana. Paglino, fino in fondo, prova a sfidare talone in mezzo a due, il cross è dentro Giuliani, poi De Angelis sulla lettura evita guai. Ancora Casertana, il duello vincente, quello di Isena. Pulizione per la Viz, perdona. Non lo fa, altrettanto Turchetta che raccoglie e punta l'avversario. Il cross è dentro, poi Giuliani, para, evita l'arrivo di Favetta. Può andare Paglino, c'è campo, il cross è buono, dalle parti di Favetta, poi Turchetta rimette dentro la battuta, Murato. Canestrelli, ci crede per talone, talone la conclusione. Casoli, dalle parti di Favetta, la conclusione di Vacca. La palla resta lì, attenzione, poi la prudezza e la difesa della Viz. Battuta di Casoli, il colpo di testa, poi Vacca, i pugni di Giuliani, la palla resta lì. Poi De Angelis, Spinozzi spazza, può ripartire in contropiede la Viz. Corre come può talone, ancora talone. Esce anche il portiere Prisco, e allora Tiam prova a eludere Prisco. Espulso Prisco, e qui episodio chiave, quando ormai la partita è praticamente finita. Se fino in fondo, poi di nuovo Tiam si gira, si ritrova alla sfera, è il tacco per Canestrelli. Spinto Nato Canestrelli, Casoli. In due, duplicato. Finisce qui la partita, triplice fischio, reti inviolate, Vissartena a zero, Casertana a zero.